Inizia la settimana in maniera estremamente turbolenta perché già nella giornata di sabato il mercato delle crypto inizia a stornare e poi arrivano delle notizie, Ethereum Foundation che versa 15.000 ETH e li vende diciamo su Kraken, che succede quando avviene questo evento? Qui vi ho già mostrato un grafico che andremo a vedere oggi e poi c'è la questione legata a Bitcoin sotto attacco per la questione della sotturazione in pratica degli scambi. Quindi Binance deve fermare addirittura il withdrawal di Bitcoin perché non riesce a gestirli. 400.000 transazioni in attesa per essere processate il 7 maggio. Sulla rete di Bitcoin che è stata saturata per la questione legata ovviamente al protocollo BRC20, cioè collegata alla questione degli NFT con Jordan Alt Market, ho fatto il mini short su YouTube per spiegare questa cosa ragazzi molto brevemente. Allora, bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, in una nuova settimana che non si sta mai tranquilli neanche una volta perché nei mercati delle crypto è tutto così ragazzi, dal giorno alla mattina. Nella giornata di venerdì i mercati mi hanno fatto un'impennata, Ethereum se ne ha riportato intorno ai 2.000 dollari e poi badabam crash nuovamente perché? Perché un po' lo zampino forse dell'Ethereum Foundation sui 2.000 dollari di Bitcoin per dampare ce lo hanno messo ragazzi e quindi un po' andrebbe analizzata questa cosa perché proprio quando devono trasferire sale il prezzo e poi lo dampano. Vabbè, allora detto questo facciamo un po' il punto della situazione su tutte queste news, andiamo a vedere un po', partendo direttamente dalla questione di non foundation, come il mercato è reagito quando la fondazione di ETH ha venduto gli ETH sia su Bitcoin sia su Ethereum, andiamo a vedere più o meno le questioni storiche, quindi le serie storiche, quello che ci dicono e poi andiamo ad analizzare la questione legata ai grafici, a capire un po' quello che sta succedendo. Questo è il ribasso che ci può stare ma che è anche molto pericoloso come vi dicevo anche nelle scorse settimane, in questa fase è tutto molto più difficile perché i giochi sono fatti, il tempo è arrivato, stiamo avvicinandoci alla questione anche della crescita del ciclo semestrale, quindi il tempo stringe come si suol dire, abbiamo necessità di vedere reazioni anche a breve. Va bene, detto questo, prima di però andare a vedere questo grafico ragazzi vi do una super news, ovviamente io domani partirò, sarò poi a Roma il 10 e l'11 maggio per la Blockchain Week Rom, chi di voi è lì insomma ci possiamo incontrare, salutare come sempre. Queste sono conferenze che ragazzi sono molto molto buone anche per vederci dal vivo, per scambiarci opinioni, parlare tra di noi ed è la cosa che mi piace più di queste conferenze qui. Ritorno quindi volentieri a Roma, rivediamo anche gli altri youtuber che ci sono, insomma ci vediamo da un annetto circa e beh ragazzi insomma saremo lì, quindi 10 e 11 mi trovate alla Blockchain Week Rom, a dire la verità ce l'ho già da domani però domani sera arriviamo tardi magari che saremo un po' in giro. Va bene, detto questo, Ethereum Foundation ragazzi 15.000 e TH vengono messi, l'atteggiamento è palese quello di, della questione di Ethereum, vi faccio vedere un po' il grafico no? Perché poi a pensare male quasi sempre ci si prende, a pensare male ci si prende quasi sempre, vabbè. Allora ragazzi un pump venerdì 5 e poi il deposito della Ethereum Foundation il giorno 6 su Kraken per poi la vendita in sostanza degli ETH. Quindi pump del 6,23% nella giornata prima, si riporta vicino la zona dei 2.000 dollari, tocca 2.020 dollari il 6 e viene dampato quindi meno 4,70, meno 1,30, meno 0,78 nella giornata di oggi. Allora pump e dump costruito alla perfezione e questo è palesemente dovuto alla questione che la ETH Foundation doveva vendere qualcosina perché è una concomitanza un po' forse eccessiva no? Comunque vabbè detto questo, giusto o non giusto, poi ognuno le proprie opinioni, poi ci sta ragazzi che sono cose che nei mercati classici old markets vengono fatti all'ordine del giorno Quindi non vi pensate che sia solo una questione delle cripto, non è assolutamente così, è stato fatto decine di volte nei mercati classici Potreste anche trovare per esempio amministratori delegati di grandi aziende che hanno dampato tutto quello che avevano prima dei grandi crolli, cioè in maniera palese insomma Quindi non è un atteggiamento Holy Crypto. Allora detto qua questo andiamo a vedere come si è mosso il mercato quando le altre volte la ETH Foundation ha venduto i suoi Ethereum Allora intanto qui insomma nel 2019 c'è stata fatta una vendita, poi abbiamo avuto tutta la campana ribassista al 2019, si vede male qui perché questo non è un grafico logaritmico quindi la vedete male, però ragazzi in sostanza hanno venduto qualche settimana prima del massimo del 2019 e poi è dampato tutto fino alla questione del Covid Poi però nel 2020 hanno fatto una serie di vendite anche corpose perché qui per esempio 100.000 ETH erano stati venduti proprio prima di una super bull run di ETH Quindi insomma parliamo di cose stratosferiche e la stessa cosa è avvenuto anche dopo la chiusura dell'annuale del 2021 Alla ripartenza del ciclo annuale hanno venduto altri 28.000 ETH e poi c'è stato un super pump gigantesco Quello nel 2021 che è portato vicino ai massimi storici ETH poi ritoccati in pratica con il pump di settembre 2021 Allora tutta questa zona vedete anche qui poi l'ETH Foundation invece ha venduto, qui diciamo ci hanno preso diciamo così perché poi il mercato è sprofondato E hanno venduto ai massimi poi nel settembre 2000, settembre ottobre 2021 Allora detto questo non c'è una vera chiarezza ragazzi di atteggiamento del mercato rispetto alle conseguenze di una vendita dell'ETH Foundation E' più secondo me una questione legata alla paura che altro perché in realtà da quello che vediamo nei grafici Qui è una specie di pacca al contrario quindi uno scaling out che viene fatto ogni tanto Quindi su determinati picchi loro prendono e vendono quindi nel 2019 ci hanno preso Nel 2020 e 21 hanno sostanzialmente sbagliato due uscite in maniera importante Tra l'altro una sostanziosa questo di 100.000 K che praticamente le richiama 1, 2, 3, 4 Quindi tutte queste quattro uscite sono state fuori rispetto a questa di 100.000 ETH che sono state vendute a 650 dollari Quindi qui abbiamo questi 15.000 sicuramente hanno visto una fase di hype e quindi diciamo hanno deciso che era da vendere Ora l'idea che possa avvenire una cosa come qui nel maggio 2021 o addirittura qui settembre-ottobre quindi da novembre 2021 in poi Quindi i massimi storici dei mercati delle cripto non lo abbiamo certamente da questi dati Però un po' il dubbio non ci viene e sicuramente con il fatto che sia concomitante la questione di scavenze cicliche rilevanti di cui vi sto parlando Un po' dovremmo stare secondo me anche allerta Vi faccio vedere un altro graficuccio interessante Questa è la reazione invece di Bitcoin alle vendite dell'Ethereum Foundation E quindi non di ETH ma appunto di Bitcoin Quello che vedete qui su quindi giù c'è Ethereum, giù sopra c'è Bitcoin Qua si vede un po' meglio che nel breve periodo comunque quasi sempre avviene questa questione di vendita Perché questo è un grafico logarittmico Allora intanto qui siamo 2017 vedete che però anche qui nelle bull del 2017 è stata venduta Poi c'è stata la bull run quindi stesso problema che è avvenuto qui Qui invece hanno beccato il 2018 i massimi poi hanno venduto di nuovo nel 2019 Ma anche quella una buona uscita perché poi il mercato ha fatto un laterale ribassista Culminato con la questione della pandemia Però qui queste tre uscite 1 e queste due uscite 1 e 2 non sono un granché Ma ragazzi vedete anche qui 1 e 2 queste due sono accettabili come uscite Perché innescano diciamo un ultimo pump e poi magari la fase ribassista Qui non è durata, qui addirittura l'ultima uscita è la PC Perché sono usciti ai massimi storici nel novembre 2021 E qui una nuova uscita Ora è un po' no, mette il dubbio, un po' mette la paura un grafico di questo tipo Allora lo consideriamo anche in virtù di quello che farà il prezzo Non si tecnica e tutto il resto Quindi andiamo immediatamente a vedere queste cose Certo è che non è assolutamente un buon segnale Perché se la foundation di Ethereum decide di chiudere alcune posizioni Non sono tante, sono 15.000 Lo fa perché pensa che comunque il mercato ha raggiunto un livello di estensione adeguata Quindi un po' il dubbio ci viene Che magari o sappiano diciamo qualche informazione O abbiano qualche informazione O poi magari non vadano a spingere il mercato più di tanto Va bene, allora detto questo Andiamo a vedere un po' la questione di ETH Come è messa Allora Ethereum Poi passiamo a Bitcoin Analisi ciclica Non c'è ancora chiarezza sul fatto Se a giugno è iniziato l'annuale Giugno 22 è iniziato l'annuale Oppure qui c'è stata una imperfezione con la lingua di buyer Che si chiama lingua di buyer corta Che ha portato la chiusura dell'annuale vero E la ripartenza a novembre come quella di Bitcoin Non abbiamo nessuna possibilità di capire questa cosa qui In maniera oggettiva Fino alla chiusura del prossimo ciclo annuale Questo ve lo dico in maniera chiara Quindi io mantengo entrambe le ipotesi ancora da validare Sennò che iniziando da qui il conteggio Abbiamo quasi 170 giorni Quindi siamo in vicinanza Quindi siamo vicini alla chiusura Probabile di un ciclo semestrale di Ethereum Come Bitcoin anche lo stesso ragazzi Che potrebbe avvenire addirittura anche proprio in questa fase ribassista Se non magari allungare un altro mese E chiudere sul successivo mensile Perché? Perché a livello di ciclo mensile Anche Ethereum sta chiudendo probabilmente Due cicli mensili messi insieme a forma ternaria Così costruiti Una volta che ha fatto questa struttura Partirà un nuovo ciclo mensile E dal nuovo ciclo mensile Noi deduciamo se il mercato può avere l'ultima chance Quella che vi sto dicendo Di andare a fare un altro pump Prima della chiusura del semestrale E quindi poi i giochi dovranno essere messi In un grande punto interrogativo Perché il secondo semestrale di un ciclo annuale Che viene fuori da Uber Market Non è detto che sia forte Quindi può essere come il 2019 Estremamente debole Perciò Da lì i giochi devono essere poi messi in atto No ragazzi Infatti diciamo Per cercare di capire come Agire è meglio Perciò io penso che Se il mercato vuole spingere Una chance ce l'ha nel prossimo mensile Allora questa struttura E questa scadenza ciclica È la stessa di Bitcoin Quella del mensile Quindi la vediamo direttamente su Bitcoin Per non allungare troppo La questione del video Poi vi faccio vedere anche una Anzi vediamolo subito Scusate ragazzi perché Vi faccio vedere questo grafico dopo Che è la Total Market Cap della DeFi Vedete la difficoltà del mercato E le cripto in questo contesto Attenzione che io qui nel luglio Nel gennaio 2024 Ho una scadenza ciclica molto rilevante Quindi un B annuale Per il mercato della DeFi Che teoricamente potrebbe tranquillamente Essere al ribasso Quindi una cosa del genere Porterebbe una fase Diciamo molto pronunciata E anche estremamente Delicata anche Di alcune criptovalute Quindi questa fase ragazzi Va monitorata Assolutamente anche sul mercato della DeFi Non vi esponete troppo Al mercato delle cripto Esclusi Ethereum Bitcoin In una fase del genere Senza avere chiarezza Di quello che andate a fare Senza avere Della formazione Senza avere Un trading plan Strutturato Perché i mercati delle cripto Sono molto delicati In questa fase ragazzi Perciò ok Viva l'eforia Delle meme coin Con Pepe E tutto il resto Però Vi dovete ricordare Che L'esposizione su progetti Che vi piacciono Blah 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 In una fase Che si esce Da un bear market Dove addirittura Un grafico del genere Vi indica Che non ha mai Invertito il trend Perché non è riuscito Neanche a salire sopra Questi massimi È molto Molto pericoloso Molto pericoloso Perché nulla vieta A questo grafico Di fare così Va bene Perché è una correzione Naturale ragazzi Questa cosa qui Io spero di no E poi vedremo Insomma se lo farà Però vi ripeto Stare molto molto attenti Sul Cripto Diciamo sottili Quelli che hanno Bassa capitalizzazione Fateci trading Io non faccio mai Holding su quelle cripto Senza Che Abbiano un trend Al rialzo Quindi se le tengo Per più tempo È solo perché Hanno un trend al rialzo Quando invertono il trend Le vendo Sempre Giusto per spiegare Un po' La questione Magari Sì Non ho mai preso Il pump di meme coin Ragazzi Ma nemmeno l'ho mai cercato Perché sostanzialmente Non è il mio modus operandi Quello di fare scommesse Sul mercato Però Il mio Tanto di cappello A che ci è riuscito Perché più soldi fate Meglio è Quindi il modo In questo caso È rilevante Se la meme coin funziona Viva la meme coin Allora Detto questo Andiamo a vedere La scommenza ciclica B mensile Di bitcoin Secondo me strutturata In questo modo Ho anche pubblicato Un video in academy Di aggiornamento Molto lungo Dove andiamo a vedere Anche i cicli settimanali Cosa fare questa settimana Come agire Tutto il resto Complicata anche questa settimana E detto questo Si vede anche la struttura Anche se mettiamo la scadenza Diciamo la struttura di natura Di close Abbiamo anche una miglioria Dal punto di vista ciclico Cioè lo spostamento In forma Secondo me più corretta Delle fasi cicliche E con le close Vedete Più pulito Tutto E si vede Palesemente Una struttura A forma Ternaria Di questa fase Di due cicli Mensili Insieme Che dovrebbero Chiudersi A momenti Ragazzi E in questa settimana Dovremmo andare a chiudere Appunto Il ciclo B mensile Di bitcoin E insieme a questo Anche Ethereum Farà la stessa cosa E poi Tutto Dovrebbe avvenire Nell'ultimo Balzello Perché da qui in poi Ragazzi La questione Deve Andare Appunto su Cioè Se questo mensile Alla forza Di tentare Nuovi massimi E fare Quel famoso Ultimo pump Di cui vi parlo Allora ci siamo Perché poi andiamo A chiudere Il ciclo semestrale Di bitcoin E quindi Non Diventa estremamente Poi complesso Andare A fare Nuovi massimi Più Avanti nel tempo Cioè Si può pensare Ma ne parliamo dopo Ragazzi Se non voglio confondermi C'è una possibilità Ovviamente Però Poi ne parliamo Successivamente Questa fase Questa fase qua Quest'ultima fase qui Che è un altro ciclo mensile Probabilmente Deve essere preso Con forte attenzione Perché se è l'ultimo Del trimestrale E anche Del semestrale Potrebbe essere Un ciclo Di natura Ribassista Questo significa Che fa un hype Abbastanza pronunciato Magari all'inizio Ma poi verte Subito Ribasso E quello Significa che si scende Un pochino Per qualche settimana Allora Questa cosa qui Si gioca A cavallo Proprio di questo momento Quindi Da qui Stare fortemente attenti Un rialzo del genere Con subito Una fase di debolezza Prelude poi A una fase Magari Creata In questo modo Che non prelude Poi eventuali Possibili Pump successivi Come vi dicevo Del tutto Però un po' Mette in guardia Perché Ok da qui Abbiamo fatto Questa parte Al rialzo Ma qui eravamo All'inizio del ciclo annuale Qui non siamo più All'inizio del ciclo annuale Ma siamo Nella sua Seconda metà E la seconda metà Può fare Magari Delle fasi Rialziste Di questo tipo E poi magari Andare a chiudere Verso settembre Ottobre Con minimi Più pronunciati Allora Questa è un po' La mia paura Di cui vi parlo Già da Un po' Di tempo Io sono ancora Trend follower Ho ancora delle posizioni Long Alcune chiuderanno Probabilmente Questa sera Se il mercato Continua Questa fase Discendente Perché seguono Delle logiche Dei bot Sono state E queste operazioni Andranno Sicuramente Se chiudono Andranno In lost Quindi Non sono operazioni Che sono state Profittevoli Sono state In lost Perché Sono dei posizionamenti Appunto ragazzi Che tentavano Di prendere Quest'ultimo pump Che se non avviene Ovviamente Non si può guadagnare Questa questione qui Però è giusta Lo stesso Cioè il posizionamento Nel tentativo Di prendere L'ultimo pump È corretto Perché Perché il mercato Può scioccare Questa view E quindi Fare Quell'ultima fase E lasciarci Fuori dal treno In quel caso Ehm Il Diciamo Lo stop attuale Viene considerato Come un costo Da sostenere Per evitare Di essere fuori Dal treno Se il mercato Tirava su Perché ragazzi Se il mercato Tirava su E poi eravamo fuori Succedeva Che in pratica Da un punto di vista Psicologico Si peggiora Perché si tenta Poi un ingresso Che non riesce Mai ad arrivare E si entra In quella Questione Di fomo Costante Con la paura Di aver perso Il treno E tutto Quello Che ne deriva Quindi A volte Accettare Uno stop O accettare Di rischiare Un pochino Il capitale Prima di avere Delle conferme Ci serve A tutelarci Da un eventuale Poi Futuro Che poteva essere Difficile da gestire Cioè Una Pump Sopra i massimi Di bitcoin Per poi Entrare dopo Era estremamente Difficile da gestire Perché il mercato Avrebbe fatto subito Un candelone De 10 punti Ragazzi Non dando nessuna Possibilità di ingresso Probabilmente a nessuno Quindi bisognava Anticipare E prendersi Il rischio Assumersi Il rischio Ricordatevi Che investire Vuol dire anche questo A prescindere A meno che non siete insider Va bene Allora detto questo L'ultima chance Secondo me si gioca Alla chiusura Di questo ciclo mensile Che è una struttura B mensile A dire la verità Di natura ternaria Dovrebbe avvenire Tra domani E Dopodomani Vediamo se Il minimo di oggi Basta La vedo un po' difficile Probabilmente farà Un altro Pump Leggero Così E poi si vede C'è la questione Anche Nasdaq Ritornato Sulla sua Livello di resistenza Ma che è ancora Stenta Perché questo livello Di resistenza Ragazzi Che poi porta Il mercato Americano A dover andare A toccare L'ultima fase Qui Qui è stato chiuso Un ciclo Tresi In maniera palese Evidente Quindi un settimanale Scusate ragazzi Ogni tanto Mi confondo Vi dico I termini Quindi anche L'attesa di Nasdaq 100 Sarà fondamentale Ragazzi Se riesce appunto A dare L'ultimo Spunto Rialzista Però Anche questo Mercato È In attesa Ragazzi Va bene Per oggi È tutto E Vi avrei voluto dare Notizie migliori Ma siamo in attesa Della chiusura Di questo ciclo Settimanale Di bitcoin E con annesso Anche la questione Mensile Quindi oggi Domani Potrebbero esserci Turbulenze Come stiamo Vedendo ragazzi E speriamo Si mantengano prezzi Non troppo bassi Che in questa fase Diciamo È la cosa più importante Per chi di voi è a Roma Ci vediamo a Roma E per gli altri Ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi